E' stata una serata emozionante vedere la reazione dei compagni e quella dei tifosi quando sono uscito è stato speciale. Fisicamente sto bene, ho preso la decisione giusta, volevo chiudere la carriera sentendomi ancora al top ed era il momento giusto, lo so. Sono onorato di aver giocato a calcio per 22 anni ad alto livello, di aver giocato al top per tutto questo tempo è speciale e chiudere così è stato perfetto.